Memo è tornato, si sta allenando benissimo con il sorriso, quindi come ho detto prima per chi non mi crede si può venire al campo e vedere l'allenamento per capire che il caso Memo Sciai probabilmente non sarebbe mai esistito se non ci fosse stato solo un giorno per preparare Chievo Verona. Sono felice io da capitano che Memo sia sereno, non avevo dubbi, sereno e felice e sono sicuro che Memo Sciai vuole continuare con la nostra maglia. No, soddisfatto al 100% non lo sono perché penso che questa squadra, o pensiamo tutti, poteva fare qualche punto in più. Poi i motivi sono tanti e diversi perché le partite sono state parecchie e il pensiero che si possa fare di più è quello che serve adesso per il giorno di ritorno. In casa solo delle prestazioni importanti possono far sì che poi la gente ci spinga perché a volte siamo un po' mancati in alcune partite di quel temperamento che invece fa sì che dopo il fattore casa diventa fondamentale. Il giorno di ritorno se tutti noi vogliamo raggiungere un posto nei playoff dobbiamo fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto il giorno di andata. Penso che questa sia una buona squadra che possa fare meglio del girone di andata, se poi vogliamo parlare di mercato probabilmente potrebbe servire un giocatore per qualsiasi ruolo, se si vuole migliorare, andare a prendere giocatori che si pensano più forti di quelli che abbiamo, ma non credo che sia solo un attaccante quello di cui abbiamo bisogno. Non vedo perché una squadra come noi, una squadra come Pescara non può avere questo obiettivo, anzi lo deve avere in testa per iniziare il giorno di ritorno.